sicuramente ti sarà capitato qualche volta di ritrovarti con un flacone di colore che si è un po addensato dentro e ha creato dei grumi ti insegno un piccolo trucco per costruirti un rudimentale filtro guarda che cosa ti può occorrere un flacone di plastica con il tappo a vite un pezzo di nylon o di calza di seta un taglia balze un bisturi e un paio di forbici taglia il fondo del barattolo con il bisturi rifila il fondo con un paio di forbici giri il tappo sotto sopra e con il bisturi taglia la parte interna metti il cerchietto di nylon sopra il collo del tuo flacone tendilo con le mani e avvitaci sopra il tappo bucato e adesso usiamo il nostro straordinario filtro artigianale buon lavoro con l'aerografo e al prossimo video ciao